Il turismo come volano per l'economia. Vogliamo parlare di questo argomento con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Un turismo essenziale per lo sviluppo e la crescita del territorio, però se noi consideriamo la realtà complessiva del Salento, mentre altre realtà crescono ed esplodono positivamente, come dire, Taranto arranca dal punto di vista turistico. Si dovrebbe fare molto ma molto di più. Come colmare questo gap? Allora io penso che il turismo va colmato, questo gap, con innanzitutto dei canali che porti gente qui da noi. Noi abbiamo un aeroporto, che è l'aeroporto di Grottaglie, che è chiuso. Bisogna aprire almeno i charter per far venire qui il turismo. E poi bisogna svilupparlo, perché la gente oggi non si può accontentare solo della bellezza del mare. Vuole servizi, vuole anche spiagge attrezzate, vuole pulizia, vuole sistemazione e questo si può ottenere facendo dei comprensori. Mi spiego, non può un paese, io vivo in un paese riverasco, Torricella, che ha circa 4 km di marina, ma non si può pensare che un turismo possa svilupparsi esclusivamente con un paese. Bisogna unire le forze, non lo so, da Manduria fino a Leporano, fare un comprensorio, farlo funzionare, perché dobbiamo attrarre. La gente che viene deve ritornare, promuovendolo molto di più con agenzie internazionali, perché noi abbiamo una fortuna, abbiamo 250-300 giorni di sole all'anno. Questo sole non può essere concentrato, il turismo, in un periodo di 40 giorni, 30 giorni, agosto e un po' di luglio. Noi dobbiamo espandere con categorie di persone diverse, non lo so, in settembre, in giugno, normalmente in giugno viaggiano più quelli dell'Europa un po' più a nord, e poi portare anche gli anziani, perché c'è un turismo degli anziani attrezzandosi, si può fare questo e sicuramente noi faremo questo se saremo a governare la Regione Puglia. Grazie per la visione!